Dai, Elu, cazzo, copri me! Ah, ecco, arrivo. Che cazzo fai per sparire contro? Ah, sei te quello? Adesso io sì. Ah, scusa, sì. Non togli me la sciola, dai. Ecco, va al solito. Ma non è vero, Abedanino? Non te l'ha mentato? Sì, come quella volta che hai dubitato dell'identità di Luigi. Sbara! Ma che stiamo scherzando? Devi sparare a lui! Io sono Luigi! Io sono Luigi! Che cretino! Non lo vedrebbe chiunque che Luigi sono io, no! Sono lui, io sono il vero Luigi! Sono io, Luigi! Andiamo al circolo! Signor Magalli, per favore, basta... Luca, non fare il cretino, sono io Luigi! Sono io il vero Luigi! Sono Luigi! Fa la canna, sì! E vai! Ma questa è la mia battuta? Lo vedi che sta cercando di prendere la mia identità? Ah, è lui quello finto! Come famiglia, quindi è finto! Ma mi sono fatto pure i risvoltini ai pantaloni, signor Magalli! Sono io Luigi, non lo vedi che sono io Luigi! Non devi sparare a me, devi sparare a lui, io sono il vero Luigi! Chi è? Chi lo conosce questo qua? Dimmi qualche cosa che sa solo Luigi! Ho la prova! Turbofrenia! Eh, allora... Signor Magalli, per favore! Siete uguali! Non capisco quale stai dei due Luigi, non capisco! Come fai a non riconoscerci? Non lo vedi che siamo diversi? Stupido, ritardato? Quante cose abbiamo fatto? Ti ricordi quel casino a San Basilio? E con chi l'hai fatto? Con me? Con questa cosa qua? No, no! Ma chi è sta storia? Dai, va! Luca, per favore! A canna! Sparagli! Andiamo via il petto! E' pieno di cagni! Dai! Spara! Luca, spara! Spara a lui! 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 Faccio! Sfa una canna! Spara! Spara a lui! Il metto a lui! unseren There's no denying